Per Radio Mia TV siamo con Federico Fazio, il chitarrista del gruppo musicale Showman in voga negli anni 60 e 70. Chi... ecco, precisamente 68. Ciao Federico. Ciao cara. Non Federico non è da solo perché è in compagnia della sua anima gemella, perché questo magnifico cagnolino lo porta sempre con sé, la sua musa ispiratrice. Allora, chi nella vita non ha cantato almeno una volta, un'ora sola ti vorrei? E invece Federico Fazio, quante volte l'hai cantata? Non me lo ricordo più, non me lo ricordo più perché è sempre quella... io ne ho fatto anche altre belle canzoni, sono tante, non si può leggere il cuore, sto cercando, tu sei bella come sei, mi sei entrata nel cuore, ne ho fatte tantissime, però questa è la più gettonata di tutte. Diciamo, secondo te, come mai, ecco, questa canzone è quella che contraddistingue gli Showman, contraddistingue Federico Fazio, perché? Allora, noi eravamo un gruppo che facevamo Rhythm & Blues, questa invece usciva dal rango Rhythm & Blues e facevamo le canzoni d'amore, il classico ballo del mattone, che era una scusa per stare insieme. Ed è rimasta sempre, perché molti mi bestemmiano, perché per questa canzone ci sono sposati. Questa mi piace, mi bestemmiano. Verissimo, verissimo. Ce li hai sulla coscienza. Ma vabbè, che colpagno ho io. E molti sono contenti perché un'ora se non ti vorrei li ha fatti incontrare. È una storia bellissima, questa è una cosa bellissima. Ascolta Federico, il tuo incontro con quelli che poi sarebbero stati i tuoi compagni artistici, ecco, di questo viaggio musicale, come è avvenuto questo incontro? Stranamente, io ero a Roma, avevo 18 anni, neanche ce l'avevo forse, e io cantavo in un locale, lo studio 84 di Roma, via Veneto. Per caso, venne un gruppo napoletano, manca a fare la posta, venne giù al locale e mi ascoltavano. Siccome suonavo con la chitarra acustica, avevo una gran bella presenza, adesso faccio schifo. Non è vero. Adesso, diciamo che adesso si è tagliato i capelli, perché prima aveva i capelli tutti ricci, però forse, sai cosa ti dico? Stai meglio così. Allora, avevo questa capitatura enorme, poi facevo questo, allora non ci ossava. Io sono stato uno dei primi a suonare la chitarra acustica, live, diciamo, una sera, nei night, e vennero questi napoletani. Li vedevo ogni sera fissi là. Ma faccio sempre questo, non si stancano di me. Alla fine mi dice uno, quando finisce, scusate, così parlavano, scusate, ma potete dare un vostro indirizzo, un telefono, un indirizzo. Il vostro indirizzo dice, cominciamo bene, senta, non è che lei vorrebbe fare parte di un gruppo, noi siamo un gruppo napoletano, però stiamo con Pino Daniele pure. Diciamo che ti hanno insegnato anche a parlare napoletano. Io parlo napoletano, sono stato tanti anni con loro, dice Pino Daniele, che non era un grande nome, Pino Daniele che sono pure con noi, e James Enese. Eh, vabbè, mi dico, allora, vuole venire a Napoli, e quando? Paghiamo tutto noi, però pago io, e andai a Napoli. Da allora sono rimasto a Napoli, sempre a Napoli, abbiamo fatto un sacco di tournée, tante, 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 tantissime. Finché la dipartita di Mario Musella ha lasciato a me soltanto, perché io facevo il chitarrista e il vocalista del gruppo. Poi Mario ha avuto questo problema e ho cominciato a cantare da solo. Nel 73 invece ho cominciato a fare la RAI da solo, con Costantini, il regista di Costantini, la trasmissione si chiamava Se, erano nuovi talenti. E da allora non mi sono fermato più insieme a Renzo Arbore. Ma avete capito che talento ho qui accanto a me. Federico Fazio, la prima volta che hai preso un microfono e hai cantato? Questo è ridicolo, ma vero. Sei anni. Che cosa cantavi, Heidi? No, ho cantato le stelle, questo mi ricordo sempre. Ho fatto la prima apparizione in televisione con Mago Zurli, Gino Tortorella. Poi chiaramente è finito, non è che facevano i tournée. Ero piccolissimo, ma era veramente un grazioso. Ero bello. Ho vinto più per quello. Adesso ha vinto anche una mia nipote dieci anni fa di Taranto. E da allora è andato avanti così. Poi a quattordici anni ho cominciato con i cinque re, facevamo la spalla dei fu, quando fecero piccolacchetti. E andavamo sempre con loro. Poi piano piano sono volute le cose. Ho avuto successo, non so come, ma l'ho avuto. L'hai avuto perché sei bravo. E comunque so che sei ancora attivo perché fai tournée, fai spettacoli, vai in giro. Ecco, parlami un po' dei tuoi spettacoli e di che cosa bolle in pentola. Allora, in pentola, innanzitutto bolle da capo il rinnovo con Emilio Solfrizzi, famoso attore, e Antonio Stornaiolo, che io sono riuscito a rimetterli insieme. Ho fatto un po' di casi. Ti devono una cena. L'ho pagata già io. Ecco. E allora abbiamo fatto 14 anni con una nota a televisione. Adesso rifaremo da capo. Ottobre cominciamo a registrare. Non so quando andrà in onda. Poi farò Don Matteo su Rai 1. Si, Don Matteo. Otto puntate di Don Matteo. Però non me l'avevi ancora detto. Questo è uno scoop. Non lo sapevo nemmeno io. Guarda, ho avuto questi giorni la notizia. E poi, non lo so, tournée all'estero non le faccio più. Ho girato il mondo, eh. Non le faccio più, non per me. Non le faccio più perché non voglio lasciare il mio bambino. Te lo porti con te? No, non si può. Ascolta, so che tu hai fatto anche cinema. Sì, ho cominciato col Totò. E purtroppo sono vecchio pure io, eh. Ma non le dimostri, soprattutto con i capelli corti? Insomma, siamo arrivati quasi al 69. Insomma, siamo lì, eh. E ho cominciato col Totò con Uccelli, Uccellati. È stato l'ultimo film di Totò. L'ultimo. Perché poi Totò non fece più niente. Perché già non vedeva. Quindi faceva i film senza vedere. Non vedeva. Andava a cappella. E io ero bambino, avevo 12 anni. E c'era anche l'attore Ninetto Davoli. Che a lui è ancora vivo, sta bene. Ha fatto anche la RAI adesso, ultimamente. E niente, poi è andato avanti così. Ho fatto con Fabio Testi, ho fatto un film di Romani. Lì facevo le comparsi. Anche perché a Roma come mangiare. Mi davano 30.000 lire. E più la busta con il pollo da mangiare. E ogni giorno puntuale ero vicino a Cinecittà. Eh, ma dovevo mangiare pure. Ascolta Federico, sei contento di quello che hai fatto? Sì. Non rinego niente. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Quindi la tua vita, ecco, parliamo di musica. Perché diciamo che la musica è stata la colonna sonora della tua vita. Quindi la tua vita senza la musica, come sarebbe? Niente. Niente. Nulla? Non ti commuovere. Ascoltami, mi fa piacere che ti commuove perché vuol dire che c'è sentimento in quello che dici. L'ultima domanda te la voglio fare e poi ti lascio sfogare a piangere. Anche se questa è una serata che anticipa il Ferragosto. Ok. Questa è una serata bellissima. Perché noi siamo qui a festeggiare. È una serata che anticipa il Ferragosto. Quindi siamo, ecco, aspettando Ferragosto. Federico, un sogno. Che posso dire? Che sogno? Ho avuto tutto della vita. Non mi manca niente. Tutto, tutto, tutto. E lo auguro anche agli altri. Perché sinceramente l'unica cosa, voglio dare un messaggio. Chi crede nella musica deve insistere. È molto difficile adesso. Perché io e i ragazzi, io faccio anche il presentatore, molte volte di spettacoli, eventi. E devo dire che è molto difficile. Però se voi credete, non dovete mai smettere di credere. Ecco, io colgo la palla al balzo. L'ultima domanda. Cosa consiglieresti a un ragazzo, a una ragazza che sta per avvicinarsi alla musica? Lo so che è brutto quello che dico. Di non fare mai concorsi televisivi perché sono un furto totale. È tutto bugia. Vogliono solamente i soldi. Ve lo dico perché non me ne frega. Vabbè, ma a prescindere da questo, una persona, un ragazzo e una ragazza che vogliono intraprendere questa strada. È facile. Cantare, cantare, cantare. E studiare, studiare, studiare. Quello è necessario. Anche se io non ho studiato. Io sono un'autodidatta. Sono tre strumenti. Però chi non ha questo talento deve studiare e si perfeziona. Sta bene. Federico Fazio, facciamo un saluto agli ascoltatori di Radio Mia Bari e Radio Mia TV. E che devo dire, arrivederci. Speriamo di rivederci ancora. Ciao a tutti. Seguite Federico Fazio. Ciao. Ciao.